Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero che tutto vada bene, se siete nuovi nel mio canale, questo è il vostro primo video, siete i benvenuti, se invece avete già guardato in passato diversi miei video, siete ritornati per guardarvi anche questo, siete i bentornati. Oggi insieme analizzeremo i dieci punti più fondamentali del perché bisogna leggere, del perché bisogna iniziare a leggere. Prima però di iniziare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, accendere la campanellina, ovviamente se non l'avete già fatto. Se vi va lasciate un bel like e commentate con magari il vostro libro preferito, oppure come avete iniziato a leggere e se vi va condividete il video con un vostro amico, una vostra amica a cui non piace leggere. Detto questo io direi di iniziare con il video, prima però facciamo partire l'intro. La domanda che probabilmente vi state ponendo tutti quanti è perché dovrai leggere, perché dovrai leggere ogni giorno? Per questo io ho deciso di farvi un elenco dei dieci benefici della lettura, però faccio una piccola premessa, ovvero che la lettura presenta veramente un sacco di benefici, veramente un numero altissimo, che sarebbe impossibile elencarli tutti quanti e quindi ho deciso diciamo di, basandomi su diversi articoli letti online, basandomi anche su ricerche, basandomi anche su libri letti, su articoli di giornale, ma basandomi soprattutto sulla mia esperienza, diciamo vi ho appuntato qua i dieci punti più importanti e ora ve li leggerò uno ad uno spiegandovi anche il perché io li abbia scelti. Allora, partiamo dal primo che probabilmente avrete sentito dire un sacco di volte, ma che diciamo anche quello più veritiero e nel quale io credo veramente un sacco, ovvero leggere stimola la mente. Infatti diversi studi hanno dimostrato che stimolare la mente aiuta anche a prevenire o rallentare lo sviluppo di malattie, come ad esempio la demenza simile oppure l'Alzheimer. Perché infatti mantenere il cervello sempre attivo e impegnato serve a non fargli perdere colpi, come tutti gli altri muscoli comunque del nostro corpo. Anche il cervello ha bisogno di fare esercizi per mantenersi in forma, perciò la frase o lo usi o lo perdi è particolarmente adatta quando si parla del tuo cervello. Magari se a uno proprio non piace leggere, lo annoia, li fa venire sonno, potrebbe anche giocare magari a scacchi, fare un puzzle, perché anche quelli comunque possono essere d'aiuto. Il secondo punto che io ho provato veramente sulla mia stessa pelle, il primo ancora diciamo non l'ho provato sulla mia pelle fortunatamente, però il secondo l'ho provato un sacco di volte, proprio ieri l'ho sentito sulla mia stessa pelle, ovvero quello di ridurre lo stress. Infatti leggere riduce lo stress. Non ha importanza quanto stress ti provochi il lavoro, le relazioni con i tuoi amici, un compito andato a male, la torta non riuscita bene, tutte le tue diverse problematiche che io non posso sapere, quando infatti sei immerso in una storia, ti ritrovi in un'altra dimensione, diciamo una sorta di mondo parallelo ecco, in cui ti dimentichi completamente dei tuoi problemi. Infatti un romanzo scritto bene ti trasporterà in un altro regno, ma non si dice così tanto per dire che un romanzo scritto bene ti trasporterà in un altro regno, perché se tu prendi un libro che ti piace particolarmente e lo inizi a leggere, te lo posso assicurare che tutto il mondo intorno a te non esisterà più, ci sarete solo te e i protagonisti di quel libro, vivendo con loro le stesse avventure. Il terzo punto invece migliora le tue conoscenze, e infatti qualsiasi cosa comunque tu leggi, non importa se leggi romanzi rosa, gialli, se leggi fumetti, questo si aggiungerà al tuo bagaglio culturale, ampliandolo e poi ti tornerà utile, infatti quando meno te lo aspetti. Molte volte io mi trovo in difficoltà a parlare davanti alle persone e molto spesso mi capita che io mi trasformo in una sorta di protagonista di un libro che ho letto e parli esattamente come quella protagonista, magari dicendo anche diverse parole che lei dice, comportandomi anche come lei. Ovviamente so che il bagaglio culturale non si basa su questo, ma si basa anche sulla nostra conoscenza lessicale, ma anche magari nei temi quando scriviamo molto spesso, ci troviamo a corto di parole usando sempre le stesse. Ecco, leggendo questo non sarà più un problema, fidatevi di me. Infatti più conoscenze hai, più sarai pronto comunque ad affrontare le sfide che la vita ti presenta davanti. Inoltre leggere è anche un ottimo modo per nutrire il tuo pensiero. Quando ti trovi in circostanze comunque difficili, ricorda che potrai perdere comunque tutto il resto, come ad esempio la casa, i soldi, il lavoro, la famiglia, tutto quanto, ma non potrai mai perdere il tuo bagaglio culturale che rimarrà con te comunque fino alla morte. Quindi più leggi, più il giorno in cui arriverà la morte sarai acculturato. Un altro punto è quello che espande il tuo vocabolario. Infatti questo è uno dei vantaggi più importanti di chi legge, ovvero più leggi, più il tuo modo di esporti migliora. Le parole nuove inoltre si andranno anche ad aggiungere a quelle che comunque già costituiscono il tuo lessico quotidiano. E esprimersi bene e in modo articolato può esserti anche d'aiuto in ambito ad esempio lavorativo oppure scolastico. Quindi leggere libri è importante per imparare anche un linguaggio nuovo, permettendo inoltre di scrivere anche più fluentemente. Infatti chi legge anche magari davanti alla classe, quando la professoressa o una maestra ti chiede di leggere, non trovi difficoltà perché riesci a leggere più fluentemente. Quando ti dà un tema da scrivere non hai difficoltà perché hai letto così tante storie che finisci per prendere diciamo spunto da loro a volte. Certo ovviamente è la storia di tua fantasia, ma a volte finisci per prendere spunto da loro e ti viene così facile scrivere un tema che non vedi l'ora che ci sia il prossimo tema in classe. Io personalmente adoro quando c'è un tema in classe. Poi un altro punto è quello che migliora la tua memoria. Infatti quando leggi un libro devi ricordarti comunque di un certo numero di personaggi, sia quelli primari, sia quelli secondari, a volte persino le comparse e quindi sono veramente tantissimi personaggi. Poi devi anche ricordarti delle loro ambizioni, delle loro storie, delle loro sfumature, di tutte quelle dinamiche che comunque si intrecciano con la storia e quindi non puoi assolutamente scordare. Anche la memoria ha un limite, però il cervello è qualcosa di meraviglioso e quindi può ricordare tutto ciò con una certa disinvoltura. Inoltre è straordinario come ogni memoria che si crea dentro di te dà vita comunque ad una nuova sinapsi, rafforzando quelle già esistenti, assistendo quindi ad un richiamo della memoria che ristabilisce il nostro umore. Quindi anche questo l'ho provato assolutamente sulla mia pelle. Io magari se studio un capitolo di storia per la scuola, il giorno dopo che sono stata interrogata me lo sono già comunque scordata, soprattutto se l'argomento non mi piace. Invece un libro che magari mi piace, ho iniziato a leggerlo, posso ricordarmelo anche dopo anni, se tu mi dici il titolo, e io mi metto a raccontarti la trama. E diciamo che io con la scuola faccio un po' così. Quando un argomento mi piace, tendo a ricordarmelo fino a tipo... anche dopo cinque anni, se tu mi parli di quell'argomento, io riesco ad esporterlo, come ad esempio il metodo di studio che io ho studiato a scuola e ancora oggi me lo ricordo alla perfezione. Stessa cosa per i libri. Se un libro ti piace, riuscirai a ricordartelo sempre. Se un libro non ti piace, o comunque ti è stato indifferente, non te lo ricorderai mai, ma perché il nostro cervello automaticamente, diciamo, lo butta nel dimenticatoio. Un altro punto, che non mi ricordo neanche più a che punto siamo, è quello che rende più forte la capacità analittica del pensiero. Infatti, hai mai letto un straordinario romanzo giallo risolvendo il mistero ancora prima che tu avessi finito il libro? Ad esempio, a me è successo, con brave ragazze, cattivo sangue, che il continuo di conoscere delle brave ragazze, a me è successo. Inoltre, infatti, sarai anche in grado di utilizzare la capacità critica e analittica del pensiero, anche a lavoro, prendendo nota, ad esempio, a lavoro o a scuola, prendendo nota di tutti i dettagli che ti vengono forniti, che utilizzerai per risolvere il giallo. Infatti, la stessa abilità utilizzata per analizzare i dettagli ti ritornerà utile anche comunque per criticare la trama, determinando se è stato comunque un brano che ti è piaciuto, se è stato un libro che ti è piaciuto, se i personaggi sono stati sviluppati bene, oppure se è stato un libro che è assolutamente bocciato. Un altro punto è quello che migliora il livello di attenzione e concentrazione. Infatti, per leggere un libro, tu devi essere presente con la mente, perché se tu leggi, ma le parole scorrono davanti a te, senza un senso logico, devi poi ricominciare. Quindi, quando leggi un libro, tutta la tua attenzione si riversa sulla storia. Questo però aiuta anche nella vita quotidiana, perché se tu già sei abituata a leggere, stando attenta a ciò che leggi, quindi perché è impossibile che tu riesca a leggere un libro senza, diciamo, prestarle un minuto di attenzione, perché quello vuol dire semplicemente che tu stai leggendo parole sconnesse, senza però che abbiano un senso. Questo quindi aiuta comunque anche magari a lavoro, a scuola. E quindi è veramente molto importante questo punto, che io ho provato anche su me stessa, perché se tu prima di andare magari a scuola leggi per una ventina di minuti, quel giorno sarai più concentrato del solito. Io verso la fine della scuola, prima di arrivare, leggevo sempre sull'autobus diversi libri, no? Dipende in quella fase che libro stavo leggendo. E una volta a scuola stavo attenta il doppio, ma perché semplicemente la mia mente era già stata attivata in anticipo, leggendo il libro. Quindi ve lo consiglio un sacco da fare. Magari di notte non è proprio consigliato leggere i libri, certo io leggo soprattutto di notte, però comunque, dato che di notte dobbiamo andare a dormire, comunque la nostra attenzione deve essere un po' più minima, non è proprio consigliato. Però c'è a chi piace, ad esempio io adoro leggere di notte, c'è invece chi di notte preferisce leggere due pagine, poi andare a letto. Un altro punto invece è quello ovviamente che migliora le tue abilità di scrittura, infatti basta semplicemente mettere a confronto i miei temi prima che io iniziassi a leggere, i miei temi dopo. Prima, diciamo, le parole non avevano un senso logico, la storia non era ben sviluppata, i personaggi non ne parlavo. Poi riempivo a malapena una facciata, invece da quando ho iniziato a leggere, la mia scrittura è migliorata un sacco, infatti riesco a riempire anche fino a sei facciate. Mi ricordo che nell'ultimo tema che la prof ci ha fatto fare quest'anno, mi ha dato il foglio dicendomi mi raccomando, non fare sei facciate, puoi fare un massimo di quattro, se mi superi quattro non te lo correggo neanche. In realtà ho scoperto che lei i miei temi non è che li correggeva, li correggeva giusto dal punto di vista grammaticale e poi me li dava con il mio voto senza neanche leggersi la storia perché sapeva già che era bella. Mi ricordo che in prima, quando le avevo dato il mio tema, le è piaciuto così tanto che l'avevo letto alla classe ed era stato anche il miglior tema, quindi veramente leggere aiuta un sacco perché io prima di iniziare a leggere diciamo scrivevo giusto due paroline di che cos'è magari proprio ciò che mi chiedeva la consegna, no? Invece da quando ho iniziato a leggere oltre alla trama perché le scrivo anche la trama sopra le scrivo tutta la storia sviluppando bene i personaggi certo la storia deve essere un po' scritta in fretta deve essere un po' per impicciolita però comunque riesco a farci mettere tutti i punti chiave e quindi aiuta un sacco. Poi provoca tranquillità Infatti il rilassamento che accompagna la lettura di un libro è possibile che l'argomento di cui tu stai leggendo ti porta in un mondo in cui regna la pace interiore e la tranquillità Quindi leggere comunque testi fa abbassare la pressione sanguinea Dandoti anche comunque un senso di calma estrema Mentre leggere libri invece su anche come aiutare se stessi a migliorarsi così aiutano anche le persone che soffrono magari di determinati disturbi Quindi leggere aiuta veramente in tantissimi ambiti Infatti molto spesso quando io sono giù ho sempre un libro per ogni circostanza per ogni evenienza per diciamo sentirmi meno sbagliata e sentirmi comunque a mio agio con me stessa Quindi leggere Perché pensare comunque che alcuni protagonisti di alcuni libri siano vivendo le tue stesse emozioni in un certo modo riescono a capirti anche se attraverso dei fogli ti fa sentire meno solo meno sola ecco cioè tu ti senti più capita più tranquilla non ti senti comunque più sbagliata capisci che lo scrittore o la scrittrice per scrivere comunque di quei personaggi un minimo deve averlo vissuto sulla sua pelle e quindi oppure deve aver conosciuto persone che l'hanno vissuto e quindi ti senti veramente a tuo agio ti senti veramente capito senti veramente di aver trovato dei nuovi amici quindi leggere veramente soprattutto quando sei arrabbiati ti sei stressati prendi un libro in mano e ritroverai te stesso quindi ragazzi questo è tutto io vi saluto e vi auguro una buona serata nella speranza che dopo esservi iscritti al mio canale aver acceso la campanellina messo un bellissimo like a questo video e commentato spegnate il telefono e vi andate a stendere sul letto per leggervi un bellissimo libro questo è tutto ragazzi io vi saluto vi auguro una buona serata e noi ci vediamo in un prossimo video buona lettura ragazzi e noi ci vediamo in un prossimo video